Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria in prima commissione informativa dell'assessore Fabio Paparelli sul programma Umbria Attiva impegnati oltre 40 milioni di euro nei settori giovani, adulti, diplomati e laureati imprese e reimpiego. Ce ne parla Tiziano Bertini In prima commissione consigliare l'informativa dell'assessore regionale Fabio Paparelli sul programma Umbria Attiva nei settori giovani, adulti, diplomati e laureati, imprese, reimpiego e servizi sono stati impegnati oltre 40 milioni di euro tra risorse europee e nazionali Per quanto riguarda alcuni dati relativi ai vari settori si sono registrate 1764 adesioni al programma pacchetto giovani riservato ai giovani NET al di sotto dei 30 anni, giovani NET cioè quelli non impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione. Di questi 966 sono risultati presi in carico. Nel programma adulti, poi, rivolto a disoccupati e lavoratori in mobilità over 30, sono state 1910 le adesioni e 1140 le prese in carico. Per quanto riguarda infine il settore servizi sono stati destinati 2 milioni 100 mila euro per il rafforzamento dei centri per l'impiego è stato poi spiegato dall'assessore che la regione Umbria non intende aderire al programma nazionale dei navigator, ritenuto incostituzionale In terza commissione, audizione delle associazioni e incontro con l'assessorato alla salute sulla proposta di legge bipartisan che detta norme in favore delle persone affette da disturbi del neurosviluppo. Il servizio Nel corso dell'audizione svolta nei giorni scorsi in terza commissione con le associazioni dei familiari e i medici dei servizi già in funzione sul tema del neurosviluppo, è stato rivolto un plauso alla commissione regionale e ai firmatari della legge bipartisan che vuole comprendere tutti i disturbi del neurosviluppo. Le firme sono quelle di Solinas, Rometti, Squarta e Ricci, ma anche della proposta originaria riguardante il solo ADHD, deficit di attenzione e iperattività, l'unico a non poter contare su alcuna legge nazionale né su linee guida ministeriali. Questa in iniziativa dei consiglieri Leonelli e Casciari del Partito Democratico. Ma sono stati espressi anche molti rilievi riguardanti le carenze finanziarie di personale e programmatiche e sulla tardiva partecipazione al disegno di legge avvenuta a testo già scritto. Sullo stesso tema la commissione ha sentito anche il direttore generale della Sanità Umbra, Walter Orlandi, il quale ha detto che uno degli obiettivi principali del prossimo piano sanitario è l'intervento sull'area materno-infantile, dove si cercherà di dare la risposta più omogenea possibile su tutto il territorio regionale. Approvata in prima commissione una proposta di risoluzione sui problemi legati ai pagamenti in agricoltura, obiettivi più coinvolgimento degli operatori, potenziamento dello sportello e maggiore presenza di AGEA in regione. Vediamo. La prima commissione presieduta da Andrea Smacchi ha approvato con quattro voti favorevoli di Casciari, Chiacchieroni, Leonelli e Smacchi del PD e l'assenzione di Carbonari, Movimento 5 Stelle, una proposta di risoluzione da presentare in aula rispetto ai problemi legati ai pagamenti in agricoltura. Nel documento viene rimarcato che la fragilità del tessuto economico Umbro, composto principalmente da piccole e medie imprese, non può più permettersi ritardi o allungamenti dei tempi di pagamento al fine di non compromettere progetti di sviluppo aziendali e dell'intero comparto. Nello specifico viene chiesto alla Giunta regionale di coinvolgere tutti gli attori interessati, a partire dall'associazione di categoria e dai tecnici agronomi affinché le domande presentate siano da subito complete, tecnicamente rispondenti ai requisiti, a potenziare il servizio allo sportello, con particolare attenzione ai giovani e alle piccole e medie imprese, nel comparto agricolo e in quello agroalimentare, a potenziare la presenza di AGEA, organismo pagatore in regione, sia a livello di dotazioni informatiche che di personale, efficientando e semplificando anche le procedure amministrative informatiche, così da rendere maggiore lo scambio di informazioni e più celeri i pagamenti per gli agricoltori umbri. Sul tema erano state presentate due proposte di legge che miravano entrambe sostanzialmente alla costituzione di un organismo pagatore regionale, del gruppo consigliare della Lega che avrebbe espresso disponibilità al ritiro e del Movimento 5 Stelle che intenderebbe invece effettuare maggiori approfondimenti prima di decidere sul ritiro del lato ed è questa, come ha precisato Maria Grazia Carbonari, la motivazione dell'astenzione. Le risorse a disposizione del Piano di Sviluppo Rurale nel settennio 2014-2020 per la Regione Umbria ammontano a 928 milioni di euro. Al 31 dicembre 2018 sono risultati impegnati oltre 600 milioni a copertura delle 16 misure previste, mentre sono state già pagate domande per un ammontare di 281 milioni di euro. Le criticità che hanno comportato un rallentamento delle procedure, quindi del pagamento da parte di AGEA, sarebbero dovute in gran parte a problemi di gestione del software informatico, ma anche da procedure che impongono continui aggiornamenti o richieste di supplementi di istruttoria da parte degli uffici della Regione e di AGEA. In sedute congiunte, la prima e la terza Commissione hanno ascoltato i vertici delle aziende sanitarie regionali per un consuntivo al termine del mandato. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. La prima e la terza Commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presedute da Andrea Smacchi e Attilio Solinas, si sono riunite in sedute congiunte per ascoltare in audizione i vertici delle aziende sanitarie regionali, che sono a fine mandato per un'informativa sull'attività svolta. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, Emilio Duca, ha parlato di un'azienda complessa in equilibrio di gestione permanente con un piano degli investimenti di 28 milioni di euro per il triennio 2019-2021, indicatori di qualità positivi, numeri che indicano l'appropriatezza delle prestazioni con ricavi in calo e attività di chirurgia in aumento, liste di attesa sotto controllo, pagamento dei fornitori in 19 giorni, un'attrattività dei pazienti da fuori in regione in miglioramento e un aumento della dotazione organica di personale. Il direttore generale dell'azienda USL Umbria 2, Imolo Fiaschini, si è detto soddisfatto di questi anni, malgrado il mandato sia stato caratterizzato da una serie di problemi pesanti, dal terremoto alla carenza di personale. È sempre stato conseguito il pareggio di bilancio, ha detto, un grande lavoro è stato fatto anche per gli investimenti tecnologici e per gli interventi infrastrutturali. Le performance migliorano con una riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori a 20 giorni, il miglioramento dei tassi di copertura vaccinale, un miglioramento della presa in carico dei pazienti anziani, l'aumento degli acquisti centralizzati. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Maurizio Dalmaso, ha parlato di un'azienda solida, performante su tre parametri, personale, spazi e tecnologie. C'è stato un forte potenziamento tecnologico che ha portato la struttura ad avere un'attrezzatura all'avanguardia. È stato fatto un grande lavoro per l'efficientamento che ha portato ad un incremento costante del valore della produzione fino ad arrivare a circa 130 milioni di euro, con un sostanziale mantenimento dei costi. Gli indicatori di performance dimostrano il grande lavoro per efficientare la struttura ed in particolare tutta la chirurgia, un fiore all'occhiello dell'azienda. In prima commissione audizione dell'amministratore unico di Umbra Flor, l'azienda vivaistica regionale Sandro Vitali, indicata la necessità di superare le difficoltà finanziarie e rilancio dell'attività. David Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, preseduta da Andrea Smacchi, si è riunita a Palazzo Cesaroni per ascoltare la relazione dell'amministratore unico di Umbra Flor, Sandro Vitali, sull'attività svolta dall'azienda vivaistica regionale, un'audizione richiesta dalla consigliera Carbonari del Movimento 5 Stelle. Dalla riunione è emerso che le difficoltà finanziarie dell'azienda ne limiterebbero quel rilancio altrimenti possibile con un impegno sulla produzione di piante tartufigene e di frutta in guscio, oltre che sugli interventi di manutenzione del verde, con particolare attenzione alla prevenzione del crollo di alberi. A fronte di una situazione di crediti di difficile riscossione, Umbra Flor dispone di circa 25 ettari di vivai su 245 ettari complessivi di terreni. L'azienda svolge anche ricerca e sperimentazione e possiede brevetti importanti per cipressi resistenti al cancro, olmi resistenti alla grafiosi, noci innestati. Umbra Flor produce inoltre 25.000 piante tartufigene all'anno e dispone delle competenze per la verifica delle alberature e la valutazione degli interventi necessari anche ai fini della sicurezza. La Commissione Sanità e Servizi Sociali ha approvato due proposte di risoluzione riguardanti il trasporto di sabili presso il centro Speranza di Fratta Todina e la situazione dei medici del 118. Paolo Giovagnoni. La terza Commissione ha approvato la proposta di risoluzione per il servizio di trasporto di persone con grave e gravissima disabilità presso il centro Speranza di Fratta Todina. L'atto impegna la Giunta a prevedere lo stanziamento, nelle more della nuova progettazione dell'attività dei distretti sociosanitari, in via di definizione, di risorse aggiuntive nel PRINA, il piano regionale integrato per la non autosufficienza, da assegnare alla zona sociale numero 4. Tali risorse saranno riassegnate da parte della zona sociale ai comuni che la compongono Marciano, Deruta, Todi, Collazione, al fine di consentire loro di costituire nei rispettivi bilanci un apposito capitolo destinato alle famiglie di persone con gravi o gravissime disabilità quale contributo per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto da e per il centro Speranza di Fratta Todina. La Commissione presieduta da Tidio Solinas ha approvato anche la proposta di risoluzione concernente la situazione dei medici precari del 118, che impegna la Giunta a promuovere azioni presso il Governo per trovare soluzioni e strumenti idonei ad avviare un processo di stabilizzazione del personale medico precario di emergenza e urgenza, a sollecitare le ASL alla verifica degli organici in dotazione per individuare gli incarichi vacanti e consentire alla Regione di pubblicare sul Burr gli ambiti territoriali carenti, un passaggio indispensabile per affidare gli incarichi. L'atto chiede anche la proroga degli stessi fino alla pubblicazione delle zone carenti. In seconda Commissione il Presidente del Comitato di Controllo, Roberto Morroni, ha relazionato sulla clausola valutativa relativa alla normativa turistica regionale, rilevati ritardi per il Masterplan 2018-2020. Paolo Giovagnoni In seconda Commissione, relazione del Presidente del Comitato per il Controllo e la valutazione Roberto Morroni sulla clausola valutativa relativa all'anno 2017, predisposta dalla Giunta e relativa alla legislazione turistica regionale. La presa d'atto del documento ha avuto 5 voti favorevoli, Partito Democratico e Gruppo Misto, mentre si è astenuto Fiorini-Lega. Morroni ha rimarcato come la regione attraverso questa normativa poneva il turismo tra gli assi centrali dello sviluppo economico dell'Umbria e che ad essa era stato affidato il compito di sostenere un importante salto di qualità. Ma rispetto a tutto ciò è stata evidenziata la mancanza dello strumento principale, cioè quel Masterplan attraverso il quale doveva prendere corpo la programmazione 2018-2020 del settore. Morroni ha rimarcato i ritardi rispetto al Masterplan per la programmazione turistica, l'insufficiente attività di controllo dei comuni sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche e infine il ritardo rispetto all'istituzione della fondazione di Umbria Film Commission. Interrogazione alla giunta regionale di Carla Casciari del Partito Democratico per sollecitare il governo affinché il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca completi l'istruttoria per l'erogazione del contributo triennale 2018-2020 per enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorsi. In questo modo il Museo POST, Perugia Officina Scienza e Tecnologia di Perugia, potrebbe ricevere i finanziamenti statali necessari alle sue attività ed evitare una grave crisi che potrebbe mettere a rischio questo importante polo museale scientifico. Claudio Ricci del gruppo Misto Ricci Presidente Italia Civica annuncia un'interrogazione alla giunta per sapere se sul tema dello smaltimento illegale dei rifiuti nei terreni per utilizzo agricolo si delineano situazioni di criticità, per quanto noto e secondo le competenze regionali, e quali azioni preventive e amministrative si potrebbero programmare ed attuare. E sempre Claudio Ricci annuncia invece una mozione con cui chiede all'esecutivo di Palazzo Donini di elaborare e far approvare con rapidità il piano di sviluppo della Valnerina, che può diventare un prezioso strumento guida sin dalle prime fasi della ricostruzione. Giacomo Leonelli e Carla Casciari del Partito Democratico, Silvano Rometti dei Socialisti e Claudio Ricci del gruppo Misto Ricci Presidente Italia Civica annunciano una mozione sul futuro della Umbria Film Commission, nello specifico chiedono l'impegno della giunta regionale a prorogare il contratto con lo studio Lumière per almeno quattro mesi e comunque fino all'effettiva operatività della Costituenda Fondazione, al fine di supportare le produzioni cinematografiche nelle varie attività tecniche connesse alla realizzazione di opere cinematografiche audiovisive nel territorio regionale, scongiurando il rischio delle interruzioni temporanee delle attività della Film Commission. Roberto Morroni di Forza Italia ha presentato in prima commissione una sua proposta di legge che modificando l'articolo 6 della legge regionale 11 del 2018, che è detta norma in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale, mira a superare l'impugnativa del governo di fronte alla Corte Costituzionale. Si tratta di un solo articolo che punta a superare le problematiche connesse all'impugnativa affrontando la questione relativa alla preclusione dai benefici della legge per coloro che hanno riportato condanne e prevedendo l'esclusione solo per chi abbia riportato condanne in via definitiva. È tutto per questa edizione, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su Youtube. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana, arrivederci. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana, vi ricordo che